Il fascicolo aperto dalla procura di Brindisi ipotizza il reato di omicidio colposo a carico di ignoti, ma presto potrebbero comparirvi i nomi di possibili sanitari indagati. Sarebbe semplicemente un passaggio tecnico per effettuare l'esame otoptico sul corpo di Armando Calizzi, il commercialista brindisino di 49 anni, morto tra venerdì e sabato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino. L'indagine, coordinata dal PM Luca Miceli, è particolarmente complessa perché sono due le strutture sanitarie coinvolte. Una il Policlinico San Marco di Bergamo, dove nello scorso mese di gennaio Calizzi si era sottoposto a un intervento di gastroriduzione, l'altra il Perrino, dove dei primi giorni di febbraio, in vari step, l'uomo era stato curato prima al pronto soccorso e poi nelle settimane successive sottoposto a due interventi chirurgici d'urgenza e all'adegenza nei reparti di rianimazione e chirurgia. Ricostruire dunque l'esatto percorso sanitario compiuto da Calizzi è prioritario per la magistratura per individuare i sanitari che dall'intervento di Bergamo sino al decesso al Perrino si sono occupati di lui. Il magistrato della Procura di Brindisi ha già disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche relative all'intervento di Bergamo e all'adegenza al Perrino. La famiglia di Calizzi ha presentato denunce ai carabinieri per chiedere che venga fatta piena luce sulla tragedia e individuare eventuali responsabilità.